Dopo la presentazione nei consigli comunali del Valdarno della mozione sul leato, il Movimento 5 Stelle fa il punto su tale lavoro, lavoro portato anche a Roma attraverso dei parlamentari. Alla base la richiesta di una divisione dei nuovi enti in organi geograficamente più piccoli per la motivazione, che oltre i 100 comuni non possono, secondo i pentastellati, trovare modalità analoghe nell'ambito dei rifiuti. Iniziamo l'incontro con una notizia importante che è a Capalbio, la mozione dove si chiedeva la modifica della legge regionale del 69 2011 è passata e noi speriamo che questa notizia poi apra faccia da apripista a altri consigli comunali che riusciranno a fare proprie le nostre mozioni. L'errore grosso è il gestore unico su un'intera area vasta, è questo l'errore grosso. E se guardiamo le linee guida del Ministero, non del Movimento 5 Stelle, il Ministero afferma con chiarezza che non è opportuno che venga dato l'affidamento a un gestore unico su un'intera area vasta, ma che bisogna individuare dei lotti omogenei d'affidamento, quindi un gruppo di comuni sarà parte di un ente d'ambito con poteri decisionali e gli affidamenti vanno dati per i singoli lotti. Presente è anche l'onorevole Federica Daga che ha portato la questione in Parlamento con interpellanza scritta. In questo caso abbiamo preso quella che era la battaglia locale, ce la siamo portata con un'interrogazione in Parlamento e vediamo se riusciranno mai a risponderci. È un momento un po' particolare perché ci sono sette regioni e 1.400 comuni che vanno ad elezioni e le interrogazioni che stiamo presentando su questi territori vengono non accolte, nel senso che sembra che non si voglia rispondere alle interrogazioni di questi territori. Il Movimento Valdarnese dei 5 Stelle ha comunque annunciato il proseguimento della discussione ancora nell'ambito locale.